Se dovessi dire quante ore ti occupa questo business ad oggi? Qualche ora al giorno, basta veramente qualche proprietà, poi tutto di guadagnato. Può essere difficile acquisirne una, di colpo ti trovi un proprietario che ne ha sei, una settimana all'altra fai questo salto di qualità. Investimento zero. Sì, sì, sì. Ciao a tutti, benvenuti. Oggi nuova testimonianza con Angelo. Grazie Angelo di essere qui con noi. Ciao, grazie a te. Allora Angelo, raccontaci un po' le basi, no? Se sei qui perché stai ottenendo dei risultati sicuramente interessanti con B&B Academy, raccontaci di che cosa ti occupi nella vita o ti occupavi, quanti anni hai, un po' un'infarinatura generale. Allora, io attualmente come lavoro principale faccio il panettiere presso una grande catena di supermercati e sono anche un personal trainer, quindi faccio queste due cose qua. Da tempo mi stavo interessando all'immobiliare, poi ho visto te nei video su YouTube già anche qualche anno fa, cioè me li salvavo, li tenevo lì, sai comunque ho pensato un po'. E quindi da un po' di anni faccio questo lavoro comunque in batteria e mi sto appassionando a... Che già l'appassione ci era già un po' prima, però sai, non è facile prendere certe decisioni e alla fine mi sono buttato, ecco. Per dare un arco temporale hai iniziato a seguirmi quando e quando sei entrato in B&B Academy? Allora, ti ho iniziato a seguire ufficialmente penso un mese prima di prendere il corso e il mentor. Ok. Poi ti vedevo nei video, ma era più così per informazione, però quando ero seriamente interessato l'ho fatto praticamente subito, cioè ci ho pensato poco. Ok. E che periodo, in che periodo, non so, sei mesi fa, un anno fa? Sì, era circa sei mesi fa e ho iniziato il mentor, il corso circa, neanche cinque mesi fa, neanche cinque mesi fa. Quindi parliamo di un febbraio, febbraio 2024? No, aspetta, l'ho preso a maggio, a maggio inizia il mentor, scusa. Meno di sei mesi fa, dai. Sì, 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 sì. Quindi tu non hai solo preso B&B Academy, hai deciso anche di investire in un percorso di mentorship con i nostri coach. Sì, 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 sì. Inizialmente stavo guardando il corso, però visto che c'era la possibilità di essere affiancati, ho pensato faccio l'in e boh, c'è inutile star lì a perdere tempo. Cioè, sicuramente una persona che ti affianca è un'altra cosa. Poi io anche facendo il personal trainer so cosa vuol dire... Essere seguiti. Essere seguiti. L'importanza di essere seguiti, sì, ti dà quel boost in più che non avrai mai, oppure ci metterai degli anni. Ottimo. E come sei venuto a conoscenza del corso? Cercavi qualche business online? Ti è capitato per caso? Hai visto qualche articolo di giornale? Diciamo che il corso, cioè questo tipo di business l'ho scoperto tramite YouTube, comunque mi sono proattivamente, ho cercato questo tipo di business, ho visto che comunque tu eri, diciamo, la figura che compariva dappertutto e ho indagato appunto sul tuo background e tutto, cioè mi sono fidato. Ecco, quindi l'ho scoperto principalmente su YouTube, l'ho visto su Instagram, notizie, posso cercare anche su Google. Una bella che eri abbastanza onnipresente su questo argomento, quindi ho detto, deve essere per forza Ludovico. Ormai sono tanti anni, quindi insomma mi preoccuperei se non fossi posizionato così bene. Sì, abbastanza. Quindi hai iniziato il tuo percorso, diciamo, veramente qualche mese fa, perché si è iniziato a maggio, siamo a settembre. Sì, sì, sì. Poco prima dell'estate, sì. Un po' nel pratico. Lavori ancora come panettiere? Sì, sì, sì. Sto ancora lavorando come panettiere. Ma quante case hai acquisito? Attualmente sono ufficialmente a cinque, cinque strutture. Comunque ho altri contatti, cioè sono in interattativa ancora con cinque, barra sette strutture. Proprio ultimamente ho conosciuto comunque dei proprietari e sto un attimo valutando. Per esempio ieri, settimana scorsa, ho fatto un sopralluogo per una struttura di un proprietario e nel sopralluogo lui mi ha fatto vedere sì la proprietà, ma poi me le ha fatte vedere altre cinque. Cioè non lo sapevo, quindi mi ha fatto, cioè non lo sapevo. Cioè io sono andato lì per uno, me le ha fatte vedere altre, tutte nella stessa città. Quindi c'è tutto di guadagnato. Dove vivi e dove operi che non necessariamente coincidono? Allora io vivo a Casale Monferrato che è in provincia di Alessandria e diciamo che opero tutto nei dintorni, diciamo, nel Monferrato, qua nelle colline, qualche città ma città non superiori a centomila abitanti, ecco. Quindi in Piemonte possiamo dire? Sì, sì, sì. In maniera molto generica? Sì, in Piemonte. E come hai acquisito questi immobili, property management, supplicazione e come stai pianificando ad esempio di acquisire quegli altri 5 barra 7? Attualmente sono, cioè, in property management, cioè li ho praticamente, li ho cercati proattivamente nei siti, tipo su Idealista, su annunci. tante volte ho scritto anche a degli annunci trovati appesi da qualche parte. Poi magari mi ha dato un contatto un mio amico e mi ha dato un altro ancora, un po' per una rete magari di conoscenze, tutto qua. Però non è che sei iscritto, che ne so, al Golf Club, una roba di lusso. No, 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 no. Sei iscritto con gli semplici colleghi di lavoro, amici, immagino, no? Sì, sì, sì. Più che potrebbe replicare. Sì, 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 assolutamente. C'è soltanto una questione di stare lì. Inizialmente, quando uno non ha una rete di collaboratori che ti portano proprietari, bisogna un attimo procacciarseli da solo, ecco. Annunci, magari anche su Idealista, chiamate, qualche chiamata a freddo, magari altri host che sono su Airbnb, direttamente anche sulle piattaforme, alcuni. Ok, molto interessante. Quindi hai tastato un po' tutte le tecniche che insegniamo nel corso. Sì, 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 praticamente tutto. Tutto quello che era possibile, con i messaggi, chiamate, sì, sì. Ho fatto parecchie chiamate e messaggi, non so quante, ecco. Parecchie. E come riesci a coniugare il tuo lavoro con comunque cinque strutture, che iniziano ad essere un numero interessante? Sì, diciamo che il lavoro mi toglie parecchio tempo, soprattutto fatica, cioè fatica fisica. Quando torno a casa ho bisogno di riposare, di riprendermi, perché sennò non... Parli del lavoro di panetteria, giusto? Sì, 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 di riposarmi e poi mi connetto. Poi al pomeriggio comunque adesso sono due in fase di avviamento ancora, cioè dove il proprietario deve un attimo mettere a posto determinate cose. Per il resto ci siamo organizzati con delle automazioni a distanza, organizzate anche con il dono delle pulizie, e quindi riesco a fare praticamente tutto a distanza. Cioè raramente devo andare io sul posto a controllare, ecco, il minimo possibile. Se dovessi dire quante ore ti occupa questo business ad oggi? Allora, attualmente... Attualmente io poco, perché attualmente saranno... Dipende da se devo creare annuncio, comunque qualche ora al giorno, qualche ora al giorno. Ok, interessante, perché recentemente abbiamo fatto un workshop aperto al pubblico, l'obiezione che arriva più spesso è ma io ho un altro lavoro come faccio, ma io ho dove trovo le case, quindi sei un po' l'incarnazione dei dubbi di tutte le persone che prima di entrare giustamente hanno... Sì, sì, diciamo che il grosso appunto è acquisire, poi una volta che il proprietario è avviato, poi dipende tanto dai proprietari ovviamente, perché c'è magari quello che ha la casa già pronta, c'è quello che ha la casa da allestire. Diciamo che il grosso è quello, però una volta che si è avviati sulle piattaforme è tutta una questione di gestire da remoto gli ospiti, check-in e check-out, donne le pulizie. E mi dicevi, forse me lo sono perso, sono in property o sub? Property Management, sì. Tutto in property management, ok. Sì, sì, sì. Investimento zero, possiamo dire. Investimento zero, soltanto tempo è andare in macchina e tornare. Tutto qua, sì, sì. Ok, ottimo. Quali erano gli obiettivi che ti eri prefissato prima di prendere il corso? Gli hai raggiunti, li stai raggiungendo? Ad esempio, non lo so, lasciare il mio lavoro da dipendente? Sì, sì, quello è il mio obiettivo, che avevo detto anche ad Asia, che ha fatto una chiamata. Sì, quello è il mio obiettivo, ma no perché odio il mio lavoro, perché voglio fare questo a 360 gradi. Comunque serve tempo, perché immagino se dovessi licenziarmi tutte quelle ore in più posso dedicarle a questo lavoro qua e diventa esponenziale. A livello di fatica e di ore avrei quelle 40-45 ore in più da dedicare a questo lavoro qua e sarebbe ottimo. Però ovviamente lo sto affiancando, perché riesco ancora a farlo, poi quando non riuscirò più a farlo, allora dovrò prendere la decisione di staccare. Mi sono dato un anno di tempo per raggiungere questi obiettivi. Io inizialmente ho detto a Luca, penso, quello che mi è venduto il corso, ma io vorrei fare magari una, due, tre case magari in quest'anno. Lui mi ha detto, una, due, tre case mi sentirei dispiaciuto se fosse soltanto due o tre case, nella mia ignoranza. E poi diciamo che ho superato... Una volta dentro ti sei reso conto che vale la pena... Ho superato le... Ah sì, 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 sì. Mi sono reso conto che a volte magari può essere difficile acquisirne una e di colpo appunto ti trovi un proprietario che ne ha sei e di una settimana all'altra fai questo salto di qualità. Cioè devi essere pronto ovviamente, perché... Per dire, queste case qua mi sono capitate praticamente quasi di una volta sola, perché il primo mese, mese e mezzo mi sono messo a ricercare, chiamate. Poi nel frattempo che si sono, tra virgolette, convinti, mi sono arrivati addosso praticamente, quindi... Tutto assieme. Tutto assieme. Infatti ho fatto una leggera difficoltà perché, sai, tra una cosa e l'altra, dobbiamo sistemare di qua con i proprietari comunque c'è sempre da dargli conto, ecco. E al di là dell'averle acquisite, che è sicuramente gran parte del lavoro, e alcune di queste immagino le avrai già pubblicate, come stanno andando? Hai detto che alcune sono in fase di avviamento, ma quelle che hai già avviato come stanno andando? Quelle che ho avviato le stanno andando già abbastanza bene, cioè per essere delle... C'erano in città da 70-80 mila abitanti, ecco, non città turistiche, non Firenze o città famose, ecco. Stanno andando abbastanza bene, sì, sì, comunque... hanno anche un 60% di occupazione, non pensavo, per essere delle città, tra virgolette, reputate... Vuoi dire i nomi, se non ti spiace, giusto per contestualizzare, se ti va? Sì, sì, comunque ho un appartamento a Novara, che comunque ci avrà 90 mila abitanti, una cosa così, e poi un altro ad Alessandria, della provincia, che sono sempre quegli abitanti lì, e tre nelle colline, che sono praticamente tutte vicine, nel Monferrato, in provincia di Asti, quindi... Per adesso comunque sono città relativamente piccole, ma comunque c'è un tipo di clientela diversa, rispetto a quelle famose, quelle turistiche, ecco. E a che percentuali sei riuscito a chiudere i contratti di gestione? Allora, io per adesso mi sono tenuto al 20%, cioè... Netti, se non è troppo alto, è troppo basso, ecco, giusto per... Sono all'inizio, poi magari quando mi faccio un po' più le spalle, penserò poi di aumentare, 25, vediamo. Chiaro, per iniziare va benissimo, poi investimento zero, insomma, una rendita per una secondaria. Sì, 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 sì. Quanto riesce a fatturare in media uno di questi appartamenti, magari, che hai preso? Allora, questi appartamenti sono appartamenti circa da 2.000-2.500 euro al mese e io prendo la percentuale, quindi sono il 20% di questa cifra qua ad appartamento. Ok, quindi io con la matematica non sono bravissimo, però sono 500 euro di media a casa? Sì, 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 quando va bene, sì, sì, sì. Dai 4 ai 500 euro a casa? Sì, 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 sì. Ok. Però moltiplicato per 5 case inizia a essere... Sì, 5 case, per magari... 2.000-2.500. Sì, poi uno... Poi magari per 10, comunque... Certo, inizia a essere una cifra più... Sì, perché uno magari in una casa può pensare che siano pochi, però uno deve pensare, essendo che sono case, bene o male, normali, c'è nulla di esagerato, pensa a fare un po' di numero per avere già delle cifre. Sono case normali, in città, sono metropoli con un richiamo di rispetto folle, ad investimento zero. Sì, sì, poi comunque è aggiunto in più a quello che già guadagno come dipendente, quindi... Certo. È una rendita secondaria nell'ordine dei 2.000 euro al mese, sputaci sopra. Sì, 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 per me va benissimo, per adesso è la voglia. In sostituzione magari poi chiaramente al tuo lavoro da dipendente, tu dici tra un anno ne avrò 15, a quel punto varrà anche la pena lasciare il mio lavoro. Sì, sì, perché ho visto bene o male, appunto, come ho detto prima, ti contatto un proprietario e poi scopri che ne ha 5. Per dire, io ho una proprietaria, quella di Alessandria, che abbiamo fatto l'annuncio di Alessandria, lei ne ha 14, adesso non te l'ho detto, ma poi un po' alla volta saranno da... Si sfittano, immagino, che le inquiline... Sì, sì, ma proprio in questo periodo li sta sfittando, purtroppo ha avuto un problema di occupazione, di quelle un po' illegali, dovuto sfondare... Borosità. Borosità. Quindi, boh, non si fida più di questo, dell'affitto classico. Poi mi ha conosciuto, ho detto, adesso iniziamo con quella lì di Alessandria, poi ne ho altre 14, che serve una palazzina, e un po' alla volta le facciamo, quindi ovviamente deve investirci anche un po' lei, perché comunque sono da allestire, sono vuote, sono da mettere dentro dell'arredamento, ho detto, beh, assolutamente, facciamo un po' alla volta, per dire lei... I primi mobili avviati ripagano magari gli arredi... Sì, sì, infatti ho detto, iniziamo con quella di Alessandria, poi con quello che farai, una parte lo rinvesti in un altro, e piano piano ci allarghiamo. Nonostante siano località, definiamole secondarie, dopo quanto tempo ricevi prenotazioni rispetto alla data di pubblicazione? Perché, ad esempio, mia madre ha avuto ristoranti per tanti anni, non ha mai guadagnato tantissimo, andavano bene, ma perché aveva un sacco di cose, insomma, non era molto conveniente come business, però mi ricordo che per iniziare a far conoscere il ristorante inizialmente, ci voleva del tempo per creare clientela, mentre Airbnb e Booking ci spingono molto, quindi potenzialmente noi sin da subito possiamo partire con un sacco di prenotazioni. A te com'è andata? Diciamo che è andata abbastanza bene, perché il primo che ho fatto, quello di Novara, che ancora c'erano le foto del proprietario, foto comunque abbastanza, cioè, così fatte col cellulare, abbiamo preso subito una prenotazione di 15 notti, 15 notti, e poi vanno avanti, veno male, a 4 notti, 5 notti, perché questo tipo di città ho visto che si prenotano da 4 notti, 5 notti a settimana, perché spesso arriva il professore, il dottore, il tirocinante, comunque devono stare lì un po', a volte mi chiedono anche un mese, ho sentito magari per 30 notti, a dicembre, ho visto comunque in questo tipo di città ci sono questo tipo di clientela che prende comunque dalle 4 notti in su, essendo che il prezzo è relativamente contenuto, però prenotano tante notti, va bene. Ottimo, assolutamente, assolutamente. Dicevi che hai automatizzato gran parte delle operazioni, hai utilizzato dei dispositivi più smart, come possono essere serrature smart, hai preferito utilizzare dispositivi più meccanici, come può essere una master lock, che metodologia hai utilizzato? Diciamo che ho utilizzato, allora, chi ha il portone condominiale, che diciamo che è quello, è il problema, tra virgolette, numero uno dei proprietari, che non capiscono come aprire il portone condominiale, lì ho fatto mettere dei dispositivi, che ho preso su Amazon, dispositivo ring di Amazon, l'ho installato io, quindi sono anche un elettricista, c'è da mettere due fili, c'è da scaricare l'app, funziona benissimo, quando arriva l'ospite, gli mando il link con la chiave di accesso, che ha un limite temporale, e l'ospite si apre, si chiude, quando vuole, e quello è il cancello condominiale. Poi per l'apertura, col Masterlock, meccanico, così con le chiavi dentro, anche se ho preso il, avevo già comprato quella smart, l'avevo comprata io, così per un, per un qualche alloggio, così ce l'ho già, anche quella con l'app, ho visto che, cioè ormai mi sono informato bene, però quando posso preferisco, Masterlock, comunque cose meccaniche, che magari tante volte può arrivare, la signora, se si gli mandi l'app, magari può andare in panico, nel pallone, sì, sì, magari con delle chiavi, un codice, è più semplice per tutti, ecco. Sì, comunque, sì, molto interessante, e dal punto di vista invece, magari di comunicazioni con gli ospiti, eccetera, come fai a conciliare questa cosa, con il tuo lavoro principale? Allora, quando, a parte che mi porto il cellulare direttamente, dove lavoro, perché magari c'è l'ospite che mi ha detto che deve arrivare alle 10, e di mattina, io mi metto il cellulare lì, a parte che gli lascio il link per accedere, quindi, tecnicamente non dovrebbe avere problemi, però io mi tengo comunque reperibile, se per caso non ce la fa accedere per qualsiasi cosa, io riesco a aprirgli da remoto, apro la mia app, lui mi dice, guarda, non riesco, ti apro io, poi, una volta che apre dal cancello condominiale, va a prendere la masterlock, lì ha le chiavi, e boh, e lì, diciamo, il problema non esiste più. Quindi comunque riesce a gestire tutto da remoto, anche per lavoro. Sì, sì, poi comunque il check-in è sempre compreso dalle due e mezza alle tre del pomeriggio, quindi quell'ora sono libero, il check-out alle 10, però già le do informazioni come far tutto per uscire, quindi... Previeni, che è molto meglio che curare. Sì, la sera prima già gli dico, metti tutti gli asciugamani in un punto, esci a quest'ora, spegni le luci, comunque tutte le cose sono scontate, però non è detto, io lo dico prima quando sono disponibile, magari quando lavoro, ho il cellulare dietro, però comunque mi porto avanti, dandovi già le informazioni che servono, quando sono disponibile, ecco. Perfetto, e una cosa che mi ha colpito è quando hai detto, comunque sto affittando ancora magari con le foto del proprietario, questa è una cosa interessante, perché lo sai, nel corso spingiamo tantissimo per fare foto professionali, pensi che c'è quindi margine di miglioramento, magari dici ho applicato il metodo B&B Academy per l'80% delle cose, pensi che ci sia ancora in realtà margine per guadagnare di più a livello di immobile e di conseguenza anche tu a livello di property manager, andando ad applicare magari ulteriori cose che vengono spiegate nel corso, ma che oggi non hai effettivamente integrato? Sì, sì, quello assolutamente, a partire dalle foto, cioè io quando vedo un proprietario la prima cosa che presso, che magari loro sottovalutano tantissimo questo aspetto qua, è appunto avere comunque un allestimento carino a casa, comunque per divano, un arredamento consono per questo tipo di affitti che loro tante volte fanno confusione con l'affitto classico, tante volte loro dicono, ti do l'appartamento però dentro è vuoto, io dico dovete mettere il divano letto, dovete mettere una cucina standard, due quadri, un tappeto carino, nulla di esagerato, e poi si può provvedere con le foto professionali, perché il fotografo ha bisogno di un allestimento carino, sennò è inutile di fotografo professionale con la casa vuota. Quindi magari un appartamento che è mediocre, comunque con le foto, un allestimento, un bel allestimento, fa completamente il salto di qualità. Questa è la cosa che... che hai, quanti hanno le foto professionali ad oggi? Adesso un paio, un paio però, diciamo che sto lavorando con i proprietari per... Per convincerli. Per convincerli, sì, comunque, perché tante volte mi dicono, no ma io le foto le ho fatte bene, poi vi faccio vedere quelle fatte bene veramente, e dico, ok, perché magari non si rendono conto. Però anche con le foto scattate amatoriali, diciamo, comunque sta incassando. Sì, sì, con le foto fatte col cellulare, per carità, comunque, comunque, sono partiti. Sì, sì, sì. Certo. Mentre titoli, descrizioni, eccetera, li hai già fatti seguendo il metodo Bambi Academy. Sì, 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 quello è tutto, tutta la descrizione, poi tutte le varie sfaccettature del profilo, che tanti non fanno, i servizi, aggiunto dei servizi, descrizione dettagliata, tutte queste cose qua, che appunto, Luca mi dice sempre di farle tutte complete, perché più il profilo è completo, più ha possibilità, appunto, di essere, sì, di essere prenotato, selezionato, eccetera. Ottimo. E adesso voglio farti, per concludere poi, la testimonianza delle domande più relative al tuo rapporto magari con il corso, con chi ti ha seguito, eccetera. Sì. Hai menzionato magari, appunto, Asia, piuttosto che Luca, che sono alcune delle persone che fanno parte dei nostri percorsi, che aiutano coloro che decidono come te di investire in questo business. Sì. Quindi ti inizio a chiedere se consigli il corso B&B Academy, e se consigli anche magari un percorso di Mentorship, perché sono comunque due cose diverse, complementari, non è obbligatorio avere il percorso di Mentorship, però hai avuto questa esperienza, mi piacerebbe che raccontassi appunto la tua esperienza. Sì, io consiglio comunque il corso più l'affiancamento, perché comunque, a meno che tu non sia già un esperto, tra virgolette, del settore, che hai un background, ma anche discorsivo, comunque devi andare dalle persone, presentarti, parlare, devi saperti comunque presentare, perché comunque, tra virgolette, la presentazione fa tanto, cioè il proprietario si fida proprio a pelle, anche se il servizio è lo stesso, ma si fida più di una persona che dell'altra, quindi secondo me uno va più a colpo sicuro, appunto con il corso teorico, e poi comunque l'affiancamento, per cui uno decide quanto fare, perché Luca, per dire con me, si trova bene, magari però con altri, mi dice tante volte che hai bisogno di spronarli, di farli anche un po' da motivatore, perché tante volte, cioè i no si prendono, quindi io sono tra virgolette abituato, non bisogna demoralizzarsi, sì, io psicologicamente sono abituato a non mollare, a non arrendermi ai primi dieci no, però c'è chi si può abbattere, è facile, perché insomma è quel programma di me, mentor secondo me fa tantissimo su questo aspetto psicologico oltre che tecnico, se uno ha un dubbio manda un messaggio su whatsapp, oltre alla cal settimanale, e risolve subito il dubbio, che magari da solo dovresti andare a cercare, fare, potresti comunque utilizzare la community, su facebook, se sei abituato ad avere il tuo coach personale su whatsapp, è sicuramente più rapido ed efficace scrivere a lui, sì sì sì, io per dire la community la guardo e non la guardo, sono proprio completamente focus, non sto tanto a guardare commenti, non commenti, guardo quello che faccio e quello che mi dice è Luca, ecco, sono più... di fare, sì sì sì, e ci sono tante persone che magari però non hanno la disponibilità economica di poter investire anche su un percorso di mentorship, secondo te il solo corso comunque è sufficiente per poter iniziare ad ottenere risultati ottimali? sì sì, il solo corso sì, pensa che io non ho ancora finito il corso, devo ancora completarlo sinceramente, sono 60%, intanto guardo qualche lezione, però diciamo che il grosso, appena ho studiato quello che mi serviva per partire sono partito, tutto il resto lo guardo un po' alla volta e quindi direi di sì, quindi se io l'ho fatto al 50-60% mi sta andando bene, direi che solo il corso poi può fare comunque la differenza, poi ovviamente se uno vuole prendere l'affiancamento, quello è una sicurezza, diciamo che è una sicurezza, uno è più tranquillo, sì sì, quello è più tranquillo, comunque se uno studia bene il corso, più che altro lo deve applicare, perché comunque deve andare proprio sul campo, cioè devi scendere sul campo, cioè devi prendere, chiamare, andare di persona, quello sì, poi le cose le impari anche un po' strada facendo, da un proprietario all'altro, cioè quello più diffidente, quello più aperto, ti correggia anche tu il modo di dire, di vendere, ecco, quello sì. Assolutamente, e hai mai fatto altri business online, o ti sei avvicinato ad altri business online? Allora, in passato, guarda, ne ho perso il conto, cioè, mi ero appassionato all'affiliate marketing, poi c'era il periodo in cui volevo fare Amazon FBA, quando era ancora, tra virgolette, accessibile, senza troppo investimento, e poi mi stavo guardando per fare sempre qualcosa comunque online, ho visto anche sulle cripto, ho investito un sacco di soldi nelle cripto, ancora adesso ho un portafoglio, quindi ne ho 20, però sono lì ferme, finché non sono lì ferme. No, perché l'avevo investito quando il bitcoin stava salendo all'inizio, quando è arrivato a 70 mila, poi è crollato, e quindi adesso stiamo, comunque... Sei in perdita. Sono in perdita, sì, per adesso sono in perdita, sono fermi lì, ovviamente non li prelevo, perché sono... Quindi, questo è quello... Sono solidi la perdita, quindi aspettiamo, speriamo. Sì, poi la mia idea era appunto quella degli immobili, stavo pensando comunque se comprare la casa, il mutuo, se me lo passano, se non me lo passano, se ne vale la pena comprare uno stabile e affittarlo, poi ho scoperto questa cosa qua, ho scoperto, diciamo, te, con vari video, posso farlo lo stesso senza investire del capitale di folli. Certo. Eh sì, perché... Quindi tutti i business online che hai approcciato, studiato, applicato, qual è quello che in assoluto più ti saranno soddisfazioni? È questo qua, questo qua in assoluto, perché... Perché proprio devi farlo proprio... Cioè, non è... Cioè, è tangibile, è tangibile. Dipende da te, cioè dipende da me, e non dipende da fluttuazioni strane o la cosa è strana del mercato, ecco, perché se... Senza contare che io non faccio pubblicità a pagamento, quindi sono tutto... Tutto organico, tutto investimento a zero. Tutto organico, perché magari c'è, può esserci per dire, il dropshipping, che uno per carità, puoi guadagnare sul... con l'e-commerce e tutto, però se devi spendere 3, 4, 5 mila euro di pubblicità al mese, diventa impegnativo. Quindi questo qua magari non lo sanno tutti, però quando lo scopri, poi dici, cavolo, cioè, non è facile anche quella pubblicità. Se non ce li hai, non vai da nessuna parte. E anche se ce li hai, rischi comunque di perdere soldi. Eh sì, perché se non sei bravo a fare pubblicità e tutto, sono un sacco di soldi che lasci lì. questo qua, diciamo, è quello che ti dà la massima resa col minimo investimento. Ottimo. Poi abbiamo il mio obiettivo. Dimmi pure, dimmi pure. No, poi il mio obiettivo più avanti sarebbe appunto di fare anche sublocazione. Quindi, una volta che ho testato un po' il terreno, vado, tra virgolette, un po' più a colpo sicuro. Quindi, quella mi interessa, mi interessa molto. Questo è un altro punto interessante, perché tante persone pensano che o è bianco o è nero, cioè, o faccio property o faccio sub. In realtà, dico io, nulla ti vieta di fare tutto quanto in base alle tue inclinazioni, con le tue tempistiche e anche in base a che cosa ti viene proposto. Se trovi il canone di fitto estremamente conveniente, punti la sublocazione, magari disparano un canone troppo alto, porti la persona verso il property management. Sì, 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 sì. Quando tu hai approcciato questi proprietari, cercavano già affitti brevi o magari cercavano altro e tu li hai convinti a fare affitto breve? No, diciamo che io l'ho proposto proprio io, cioè, loro non neanche lo sapevano questa cosa, cioè, la sapevano, però era una cosa un po' campata in aria, cioè, li ho contattati io. Magari cercavano un affitto classico e tu li hai portati sulla retta via, diciamo così, con l'affitto breve. Sì, sì, magari c'era tipo un appartamento che sono in trattativa di asti, che l'ho contattato su un portale, su Idealista, che lo faceva a 400 euro al mese, una cosa così. comunque ho visto comunque Astia, anche se è una città non gigantesca, è una città comunque da 2.000, 2.500 euro al mese. Io l'ho chiamata, ho detto, guarda, se tu l'affitto ha 400 euro al mese, l'affitto classico sono tutti questi rischi, morosità, eccetera, e tutto. Questo tipo di affitto qua lo gestisco io interamente e poi io prendo la mia commissione, ma ti resta un margine che è oltre il 50% in più netti. Comunque il proprietario poi fa le sue valutazioni e poi si convince perché ovviamente vuole vedere. Certo, è oggettivo, poi basta fare una ricerca di mercato, mostrargli degli screenshot, degli incassi, degli altri mobili simili. Magari mi presento direttamente con un report e gli faccio subito vedere i numeri. Ottimo. Utilizzi anche il software Badly Go per la ricerca di mercato? Sì, uso Badly Go che meno guardo anche il prezzo medio, tutte queste cose qua, l'occupazione, e lì magari scarico il report, mi presento con il report oppure io lo invio prima, vedono anche loro quello che vedo io, perché magari a parole magari non si fidano, però se gli faccio vedere comunque un foglio con dei dati effettivi non si possono controllare. poi è un software terzo dove dici non posso manipolare le informazioni e quindi sono dati. oggettivamente veritieri. Sì, magari ti dico guarda, adesso ci sono 260 strutture, il prezzo medio per notte sono quei 115 euro, il tasso di occupazione è il 50%, i conti sono presto fatti. Ottimo, quindi soddisfatto di Badly Go? Sì, mi piace usarlo, lo uso affiancato a Airbnb per vedere un po' come adesso c'è anche la spunta per vederlo con Booking. sì, mi piace smanettare, guardare tutti i dati. Ogni volta che ho un dubbio lo uso perché se devo andare a fare un soprallogo da qualche parte vado subito a vedere i tasso di occupazione, il prezzo medio per notte, il tipo di appartamento, almeno parlo più sicuro. certo, ottimo. Ultimissime due domande, pensi che il corso e il programma di mentorship valgano quanto hai speso, valgono di più, valgono di meno? Valgono, valgono molto di più perché se, per dire, io ho preso il corso quello da 12 mesi, cioè 12 mesi di affiancamento, scusa, alla fine basta veramente qualche proprietà per rientrare nell'investimento e poi tutto di guadagnato. direi proprio di sì. I roie potenzialmente è infinito, diciamo. Sì, ovviamente non puoi far pagare 100.000 euro al metro, però quello è il valore tecnico perché comunque se ti cambia completamente la vita, la visione, il tempo è un valore cioè è infinito, è inutile che star lì. Ottimo. Sì. E ultima domanda che voglio farti è avresti ottenuto gli stessi risultati senza B&B Academy secondo te? No, no, non credo più. Cioè ci sarebbe stato troppo, cioè mi sono reso conto che c'era, ci sono tantissime, cioè il 95% delle cose non le sapevo, cioè potevo immaginarle con l'affitto breve, Airbnb, Booking, altri portali, però tutti anche i fatti, i contratti, tutte le le novità regionali, statali, il CIN, il CIR, tutte queste cose che se non ci sono scritte da qualche parte non... Certo, non puoi magari arrivarci con delle ricerche su Google ma magari arrivi a un ventesimo delle cose a cui dovresti arrivare. Non ci metti troppo, cioè non ne vale la pena, non ne vale la pena. Ottimo. Secondo le cose che deve farle, deve farle bene, io penso sempre così. una volta che uno è sicuro, va. Fantastico. Ti andrebbe di condividere il tuo link da host con chi ci sta guardando nel caso volesse anche prenotare una tua casa? Sì, 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 sì. Però lo mettiamo eventualmente qua nella descrizione su YouTube, però è una cosa che chiedo a tutti quanti così non mi vengono a dire ah sì, ma questo è un attore pagato da te per dire le cose che vuoi tu. No, perché vai, vedi, esiste un profilo da host, esistono le case, esistono le loro azioni. Sì, sì, sì. Tutta pubblicità, diciamo, se uno deve venire in quella zona. Certo, certo, certo. Poi te lo invio. Perfetto, fantastico. Almeno è lì si vedono gli annunci. Poi magari uno tra sei mesi troverà più proprietà di quelle che hai menzionato. Anzi, mi dispiace che non ci sono tutti perché se ne sarebbero altri da aggiungere, però adesso ce ne sono qui 4-5. Quindi, piano piano, magari il tempo che esce, tempo che la editiamo, la sistemiamo, la carichiamo su YouTube già saranno aumentate le proprietà. Proprio di sì. Te lo auguro. Vabbè, grazie. Bene. Angelo, io ti ringrazio tantissimo. Ti auguro un grandissimo in bocca al lupo, ma sono sicuro, insomma, che non è neanche bisogno più di tanto perché si vede che sei appassionato e i risultati arrivano da sé. Insomma, in pochissimi mesi sei già in un'ottima posizione all'interno di questo business. Quindi sicuramente poi non mancheremo di aggiornarci anche più avanti per vedere i progressi che hai fatto. Sì, 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 assolutamente. Non vedo l'ora. Bene. Io ti ringrazio tantissimo. Ti auguro ancora una volta un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. Grazie anche a voi per averci seguito. Trovate maggiori informazioni su B&B Academy e la possibilità di avere una consulenza gratuita con il nostro team dal link che trovate qua in basso e iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace. Ciao a tutti. Ciao, ciao.